Svecchiamento delle istituzioni culturali e concezione aperta del patrimonio artistico. Da questi presupposti nasce Invasioni Digitali, un movimento nazionale di promozione turistica e culturale che ha fatto tappa anche a Palagianello domenica 26 aprile. Il centro storico, cornice perfetta e luogo cardine dell'evento, ha accolto gli invasori che armati di fotocamera, smartphone e connessione internet hanno fotografato e condiviso sui social i loro scatti. L'associazione di promozione sociale I Portulani ha organizzato l'invasione e accompagnato i turisti nel percorso che dal castello di Palagianello si è concluso nei pressi dell'antico santuario Madonna delle Grazie. Invasioni Digitali è un evento che è stato organizzato dall'associazione I Portulani in collaborazione con lo sportello in forma giovani di Palagianello e con il servizio civile nazionale. Sintetizzando che cos'è l'invasione digitale bisognava visionare il territorio, bisognava fotografare e condividere sui social. Via Antico Santuario per l'occasione è stata allestita con esposizioni e mostre di alcuni artisti locali. Benvenuti a Invasioni Digitali, noi siamo l'Arci, siamo qui oggi insieme a altri artisti, noi stiamo proponendo il nostro laboratorio che si chiama Officina Collettiva, può essere un laboratorio di riuso di materiali. Oggi siamo qui con la serigrafia che appunto stiamo sperimentando queste tecniche serigrafiche su maglie di riuso che a qualcuno non piacciono più e ci inventiamo assieme delle stampe. Noi siamo l'Arci, questi sono i nostri lavori e siamo contenti di invadere anche con gli altri questo posto. Buongiorno, sono Martino Tamburrano e ho partecipato anch'io oggi alla manifestazione Invasioni Digitali. Ho presentato alcuni dei miei quadri e alcune delle mie opere emusive. Ho realizzato questi quadri con tecnica ad olio che rappresentano due vari paesaggi pugliesi. Io sono Piero Carrieri, sono un artista, un'autodidatta, dipingo con olio sul tela. Ho partecipato, sono stato invitato all'evento dell'Invasore Digitale, sono venuto volentieri anche per poter contribuire alla valorizzazione del territorio con delle opere che rappresentano i posti di Palagianello tipo la chiesa, il castello e una cartolina classica di Palagianello. Salve, mi chiamo Leonardo Galatone, nello specifico realizzo ritratti. La tecnica che uso è una matita, la sanguigna e poi le sfumature le faccio tutte col dito. Noi abbiamo ideato di fare quel gruppo lì, Click 2015, giusto per incominciare a far diffondere la fotografia. Poi esponiamo cercando di poter valorizzare il territorio perché comunque sono foto che girano. Vedi che bello? Più bello di così. Ho deciso di aderire su invito di Maria Caragnano a Invasione Digitale perché ritengo che sia una cosa abbastanza importante. Si conosce nuova gente, si diffonde un patrimonio che abbiamo, che è abbastanza per me unico, importante. L'arte credo che sia l'unica fonte che potrebbe valorizzare al massimo questi luoghi.